ciao a tutti bentornati sul canale ciao scarlett buongiorgio 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 anche a te buon nuovo giorgio e che ci qua oggi cosa abbiamo le majorette e allora questo pacco qua di la verità io non volevo comprarlo questa è la più bella io non volevo comprare sai perché questa ce l'ho questa ce l'ho questa ce l'ho e questa ce l'ho e mi mancava questa e lo volevo proprio per questo è perché mi mancava questo colore che mi tagliave tutto questo si fa andare la cassa ecco lei infatti è un po arrabbiato perché l'ho speso 10 euro per delle macchine che ho già questa 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 ce l'ho già e tranne questo 10 euro per una macchina così però un po speciale adesso poi la vediamo con le altre come vediamo perché abbiamo comprata di miscarlo cosa c'è cosa c'entrano i camion con le ferrari e non lo so che non sono ferrari però non so effettivamente un camion uno scavatore con una macchina sportiva non c'entra niente e neanche un camion sportiva però chissà le hanno messe insieme le apriamo abbiamo prima di tutto dobbiamo dire ciao a tutti bentornati sul canale abbiamo già detto ok questo abbiamo già detto iscrivetevi al canale suonate la campanellina e scrivete un commento se vi piace i nostri video invece chi ci segue mi raccomando continuate a farlo perché abbiamo tanti tanti nuovi modelli proprio oggi abbiamo comprato dei modellini nuovi bellissimi che poi farò vedere nei prossimi video io sono intendo matto ok effettivamente da matti comprare cinque macchine posso scriverti matto per una cinque macchine solo perché mentre sarà questa adesso vediamo perché mi interessava questa ne abbiamo abbiamo le coltello no ce la facciamo apri allora setta dai ce le unghie ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho pari io però ecco 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 qua la scarga ti piaceva questo in particolare perché perché questa viola vuoi prendere questa è una foggietti ecco un po difficile riconoscerla una foggietti a scarlet piace perché perché viola perché viola preferito il tuo colore preferito anche nero e bianco nero bianco e viola mamma mia che per i colori allegri eccola qua questa quindi la foggietti della giovente le solite ruote la bella ormai le annette mille modi io poi lo capiranno vedo la maggiore fatta in thailandia e questa è scala 163 quindi sono leggermente più grosse rispetto la 163 va bene sono come le matchbox e le twilze e l'altra scala che non va bene quella 156 mi sembra questa foggietti quella che mi piace a io l'adoro te l'adori benissimo tocca a me dai vanno avanti io avanti con questo tanto so che questo non ti piace quello scavatore uno scavatore qualsiasi ne abbiamo tantissimi poi faremo uno speciale scavatori speciale cantiere mezzi da cantiere questo qua ce ne abbiamo diversi adesso non so se proprio uguale identico a questo però sono l'indenberg li abbiamo capito molto bello questo c'è i movimenti guarda scarlet da questi movimenti e si ce l'abbiamo già uno così o simile lo stesso ce l'abbiamo anche tipo come giocattolo di plastica di no e sì 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 ci abbiamo quelli grossi della bruder anche perché quando gaffio era piccolo di tutto di tutto non vi dico quanti giochi che adesso gioca solo a play quel caprone lì va bene dai questo bello dai ti piace ci metto di qui mettiamo gli davanti leva con la scatola se no non perché gioca a te questa l'audi r8 anche questo ce l'abbiamo cabrone grazie che ha molto lasciato quello blu vediamo un po questa scala 158 diverse audi r8 fate in thailandia questa qua poi faremo uno speciale che c'è anche essere un amico qua su youtube uno speciale di comparazione tra la majorette le hot wheels e le matchbox e l'ha fatto tutti l'audi r8 diciamo cabriolet adesso non so se la matchbox l'ha fatta cabriolet però l'abbiamo tutte quelle che l'hanno fatte l'abbiamo quindi poi faremo ricerchiamo e faremo una comparazione a questa è molto bella perché è ben rifinita lo sapete l'unica pecca che hanno queste macchine sono le ruote non capisco che continuano a fare così probabilmente per una questione economica però la maggiorette non se le vende a poco e se le fa pagare cari le macchinine quindi potrebbe anche investire un po su queste ruote visto che le fanno così bene su tutto almeno le ruote giusto scarletti ok tieni andiamo a partaggiare tocca a me e allora prendo questa ti lasciamo per ultimo dai prendite questo ti ok dai quella siamo per ultimo che così vediamo un po anche questo se non sbaglio ce l'abbiamo già perché una volta con trappio siamo nati un negozio c'erano tutti questi camion quale aveva presi tutti torre la mercedes e si anche grandi quando facciamo le cose le facciamo bene sia che quelli da bruder dice la grandi giganti da cipolla giganti la spazzatura un prossimo video e facciamo vedere si guarda se mettiamo quel camion di davvero tutti quelli di quelle che aveva 45 la spazzatura non sono grandi più di oggi tutti quelli che possiamo mettiamo nel video va bene nel prossimo questo ce l'abbiamo già c'è il filtro dell'aria vedete in alto perché questo si vede che va nei cantieri non c'è tanto fango e acqua questo ci ha questo sembra quasi di plastica sono quasi di albino di alluminio di latte sicuramente di plastica non è l'arte e latta una lega qualco metallica non è che forte metallizzata non so se ce l'abbiamo blu verde questo adesso se me andiamo a vedere aspetta vado a prendere vado a vedere se lo trovo ci vediamo tra poco eh adios cos'è che deve dire adios no a sta luego a dopo tra poco aspettateci eccolo qua l'abbiamo trovato e guarda un po' è uguale identico è uguale identico manco fosse stato uguale questo no questo vecchio è questo quello nuovo questo quello vecchio uguale identico e va bene abbiamo due va bene almeno se facciamo quando giochiamo ai cantiere a questo cosa c'è niente la finita targa quando giochiamo al cantiere almeno ne abbiamo due eh ok ci metteremo qua scarlett trasporti ecco uguali identici va bene però noi abbiamo preso questo kit da sei la streetcar solo per questa fa una poche macchinina eh scarlett sai che cos'è è la papà guarda che bella questa merita tutto sì che abbiamo pagato poi la fine di 10 euro solo per lei eh ora vabbè le altre ce le abbiamo doppie ma va bene questa è l'alfa romeo 4c spider guardate che bello questo colore qua blu metallizzato ti piace scarlett e sapete che lo sapevi che lo sapevi che l'ho presa quella e perché ti mancava perché ci mancava perché ci vogliamo di bianco e se lo diamo e in e in giallo eccole qua eccole qua guardate un po ecco perché lo con l'esame che mi mancava quella di blu metallizzata poi le ti piace di queste tre quella bianca quella bianca poi visto quella gialla che c'ha delle volte diverse quindi l'abbiamo presa l'abbiamo presa solo per quella per quella lì perché ti mancava e mi mancava quella bluette talmente bella che ho detto non potevo lasciarla lì tu cosa dici scarlett e potremmo lasciarla lì no anche se le altre ce le abbiamo doppie e va bene lo stesso dai quella lì ci mancava soprattutto non so poi magari tra qualche mese la venderanno singolarmente ma se non la vendono singolarmente ci mancava noi e quindi non potevamo lasciarla lì ma anche questo è molto diverso ma questi due uguali vuole perché quindi dai a voi quale vi piace di queste tre lasciate un like lasciate allora lasciate nei messaggi quale vi piace più se questa gialla questa bianca o questa blu metallizzata queste l'abbiamo trovata adesso quindi diciamo sono nei pack nei pacchi da cinque in giro adesso l'abbiamo trovata in un supermercato mentre andavamo a fare la spesa quindi solitamente non le ha queste il maggioretto questi negozi però quel caso lì ce l'aveva quale è stato prima? la prima è stata la bianca forse la bianca poi la gialla che l'abbiamo cercato pertanto come pazzi? come? come pazzi avete cercato la gialla? eh sì quella gialla perché anche questa era in un pacco da tre mi sembra però non brutte le altre e quindi non l'ho comprata poi l'ho trovata singolarmente l'ho presa questa invece l'ho presa subito non ci ho pensato un attimo e via 10 euro per una macchinina 10 euro buttate nel cesso 10 euro buttate nel... eh? come? il cesso bene dai scarlet allora abbiamo queste doppie e va bene e possiamo fare un bel cantiere aspetta che mettiamo bene qua l'inquadratura che non si vede questo lo mettiamo qua la carta la buttiamo allora vediamo un pochino eccole lì questo è il set da 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 cinque macchinine e ne abbiamo messe due in più tre in più quindi questa doppia e queste due qua allora scarlet a te quelle piacciono di tutte? l'hai già detto eh queste due quelle due è bene ci mancava il nero a me piacciono queste tre qua vabbè che non c'entra niente con il kit però in particolare mi piace questa allora mi piace questa allora vediamo un pochino queste due sono le vincitrici queste due a me piace anche queste due se c'erano questa è dell'altro non c'era nel kit quindi queste due qua a voi quale vi piacciono allora a me piace questa e a scarlet questa lasciate un commento per quale vi piacciono e niente facciamo così che ci vediamo alla prossima scarlet ciao a tutti ciao a tutti allora mi raccomando iscrivetevi al canale seguiteci suonate la campanella lasciate un commento fate quello che volete ma basta che ci seguite abbiamo tanti altri modelli da farvi vedere abbiamo comprato poi un kit di cinque macchinine molto bello che faremo vedere prossimamente e niente dai cosa c'è scarlet? dovi darli ah ok ok quindi niente ci vediamo la prossima volta un car of the day un video al giorno una macchinina al giorno se no ci vediamo domenica prossima ciao a tutti e buona domenica ciao ciao a tutti ciao 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 a tutti ciao a tutti